Il punto interrogativo sulla nuova giunta per ora rimane. Il sindaco Lucio Greco che sembrava intenzionato a sciogliere la riserva prima della partenza per Roma ha invece scelto di attendere l'avvocato in missione istituzionale proprio nella capitale. Pare siano previsti incontri ministeriali su diversi dossi ancora aperti dal CIS all'accordo di programma senza dimenticare la collocazione nell'autorità portuale della Sicilia occidentale che va ancora ratificata. Almeno fino a domani il primo cittadino darà priorità agli impegni istituzionali anche perché l'accordo di programma va verso la scadenza e il ministero dovrebbe completare a breve le procedure per la proroga. Dal ministero delle infrastrutture di recente sono stati disposti finanziamenti per 30 milioni di euro che toccano i progetti di qualità dell'abitare presentati attraverso l'attività condotta soprattutto dal vice sindaco Terenziano Di Stefano a sua volta in attesa di capire se potrà esserci una riconferma. Anche su quest'ultimo versante bisognerà rispettare un cronoprogramma piuttosto fitto e complesso se a Roma l'avvocato ha in agenda diversi incontri in città. Pare aver ormai chiuso il cerchio politico. Quali saranno le scelte non lo sanno ancora neppure i consiglieri più vicini alla sua linea. L'incertezza è forte, gli assessori azzerati sono in attesa di riscontri. L'avvocato ha avuto diversi faccia a faccia e qualche sorpresa potrebbe riservarla proprio prima dei titoli di coda. Il blocco di riferimento dovrebbe ancora una volta far leva sul fronte civico e sull'azzurro di Forza Italia con due assessorati. Conferme inoltre potrebbero arrivare per l'assessore Giuseppe Licata ora in quota nuova di C in vista di una più che probabile staffetta con l'avvocato Liliana Bellardita e per Ivan Liardi del gruppo di impegno comune. Sembrava ormai in procinto di lasciare palazzo di città ma invece pare che il sindaco abbia intenzione di ribadire la propria fiducia all'assessore Cristian Malluzzo anche se i rapporti terrenziani di Italia Viva e i lealisti di maggioranza non sono dei migliori. Se le previsioni comunque sempre in continua evoluzione dovessero essere confermate il restyling in giunta non sarebbe così radicale anzi la conferma che pare politicamente quasi scontata dovrebbe arrivare per il vice sindaco Terenziano Di Stefano sulla stessa scia l'assessore forzista Nadia Gnoffo mentre per il secondo esponente azzurro sembrano forti le percentuali che portano all'avvocato Angelo Caffà liberamente che ormai ha avviato un percorso di condivisione con il resto dei pro greco abbandonando la trincea critica dovrebbe portare l'altro volto nuovo il commercialista Dario Lisciandra. A differenza dei tanti rumors iniziali la nota che più salta all'occhio è la possibile rottura del rapporto politico tra l'avvocato greco e l'UDC. Pare non ci sia posto per la riconferma dell'assessore Danilo Giordano che alla guida del settore bilancio ha riportato risultati a partire da atti finanziari finalmente approvati con grande anticipo rispetto alle consuetudine del municipio. Lunedì il consigliere centrista Salvatore Incardona che insieme al coordinatore provinciale Silvio Scichilone sta perorando la causa della riconferma di Giordano abbandonato l'aula consigliare mentre si discutevano le emozioni e proprio prima dell'ingresso dell'avvocato greco un chiaro messaggio in una fase che potrebbe portare al divorzio tra il primo cittadino e centristi che lo hanno supportato fin da quando hanno aderito al progetto di maggioranza. Venendo meno l'UDC greco potrebbe perdere canali preferenziali con gli assessori regionali in quota centristi. A questo punto la nuova aggiunta potrebbe essere annunciata nel fine settimana sempre che non ci siano ancora altri aggiustamenti da apportare.